Cari fratelli e sorelle, Non cessano di giungere drammatiche notizie circa la situazione in Venezuela e l'aggravarsi degli scontri con numerose morti, feriti e detenuti. Mentre mi unisco al dolore dei familiari e delle vittime, per le quali assicuro preghiere di suffraggio, rivolgo un accorato appello al Governo e a tutte le componenti della società venezuelana, affinché venga evitata ogni ulteriore forma di violenza. Siano rispettati i diritti umani e si cerchino soluzioni negoziate alla grave crisi umanitaria, sociale, politica ed economica che sta stremando la popolazione. Affidiamo alla Santissima Vergine Maria l'intenzione della pace, della riconciliazione e della democrazia in quel caro Paese. E preghiamo per tutti i Paesi che attraversano gravi difficoltà. Penso in particolare in questi giorni alla Repubblica di Macedonia. Grazie a tutti i Paesi che attraversano gravi difficoltà.